ciao a tutti e benvenuti qui sempre è rimasto che avevo cacciato un gormagala caotico e abbiamo raggiunto anche il livello G3 è finito il tutto adesso ho un bel po' di gente che mi deve parlare quindi riprendo da qua allora andiamo cari Feline allora iniziamo da caravunile buonasera caravunile l'abbiamo trovata il mio gran talento l'ultima pagina del progetto l'ho appena appreso dalla tegliera purtroppo come posso dire la pagina è rimasta impigliata sulla culla dei diamond e vai ho come impressione che ne sto in qualche modo a amicitare se stessa ma vanno le ciance il mostro si sta avvicinando non dorma mentre parliamo dobbiamo intervenire al più presto il demo app potrebbe rendere al suolo non dorma con una singola panciata mi sembra palese che sarà meglio per tutti se tu ridessi la caccia città sicuro progetto recuperato più a cacqua una fava il titolo di mission urgente avanzata montagna mobile palla alla tavata del genere per iniziare e adesso vai forza salvaggita e salvaggita ancora una volta andiamo a vedere poi chi c'è il signor Vangelo ah ecco ti qui stavo cercando proprio te l'abbiamo finalmente trovato beh ah ma oh no davvero è stata l'attigliere a trovarlo lo strano mostro il drago anziano Kamalos ah però ragazzi si parla di un nuovo mostro o vuoi? nessuno aveva certezza che fosse lì per davvero ah ah ma l'attigliere l'hai individuato nel cuore del bosco eterno capirai che la cattura è strana solo quando lo incontrerai e lo incontrerai vero? la missione giunta si intitola Nera Rebbia l'attigliere mi ha promesso che quando sei sul posto ti fonderà di consiglio buona fortuna la ringrazio poi chi c'è? il fabbro ah pare tu abbia recuperato dei materiali piuttosto sostrani ma magari un arma affoggiato con quel tipo di materiale può assorbire potere peculiari l'ho notato io stesso dopo la forza queste armi possono avere affinità positive e negative allo stesso modo però come ben sai l'affinità positiva ha metà probabilità di casardone maggiore quella negativa ha l'effetto opposto non è chiaro un arma affoggiata con questo materiale dopo la gala può copertire l'affinità negativa e positiva ciò succederà dopo aver debellato il viso della afinesia ad esempio immaginiamo con l'affinità positiva 20 e negativa 40 affinità negativa 40 diventa la positiva dannoti quindi un totale di affinità positiva 60 per fare una somma insomma caccia con l'abilità e poter ottenere la finità necessaria per vincere lo scontro per cosa procediamo molto interessante poi chi è che mi deve parlare altri altri ci sono altre novità sui nostri cacciatori informati ieri dopo aver finito i pulire sono andato a cercarli e li ho sentito di rire ehi ciocio quella lunastra deve essere proprio di là delle dune guahaha sarebbe un ottimo riscaldamento un ottimo riscaldamento prima di affrontare il lauscia lunghe cenereo blahaha lungo il tragetto però sono comparsi un tigris e un tigris brutale i due li hanno squadrati e uno di loro ha detto un tigris sarà come rubare il caramelo a un bambino guahaha ma devono aver perso tutte le loro pezze fresche perchè hanno ignorato i mostri e sono accorsi via in amore levate io volevo seguirli ma quei mostri sono ancora lì e bloccano il passaggio non potresti scacciarli tu tra le dune oggi è stata una missione intitolata avanzati incapaci infernali quando la via sarà libera fammi sapere mia cosa va bene tanto questa persona ha già capito come vuole fare la missione che si tratta e poi c'è la dama della gilda la città nostri mi ha risposto lo scrivano numero 5 dell'accademia reale questa volta è una risposta incoraggiante a dispetto delle proteste mosse sinora devo riconoscere che approccia la materia che con impegno e entusiasmo tuttavia non posso fare a meno di pensare a raro e schivo Gormagala cosa può impedire alla bestia agonizzante di tornare nella sua casa come possibile stapparle fino all'ultima sorte di vita? solo tre autore hanno scritto per Gormagala ma se lei contribuisse con nuovi dati la sua app sarebbe inestimabile che possa la saggezza sostenerla sempre e aiutare a realizzare il suo sogno oh oh me lo sento c'è fama Steph ci sono quasi sfruttatamente questo significa che devo chiedere un'ultima favore personale non vorrei approfittare troppo mi spiace ma questa è la cosa importante che ti abbia mai chiesto in nome della nostra amicizia ho registrato una missione ingente intitolata avanzata tutta senza sforma se ne farei questo per me ti darò fino all'ultima zenica sono disposta a rischiare tutto, non ho paura ti prego di miei design, questo po' che è vero la mia vita ma eccole missione ecco qua ragazzi un aggiornamento ad altre missione ah ok sia urgente che grado 10 ok bene ragazzi e adesso mi avventuro nella sandica oh mi deve parlare anche la la negoziante io mi benvenuta da trisponare un nuovo libro contenente formazione sulla lista di nostri vacanziani un valore imprescindibile per quello del cacciatore che non riesca ad affrontare uno dei mostri senza rischiare la vita ma grazie bene ragazzi adesso mi connetto trovo una sala e spero che il cacciatore mi possa aiutare allora ci vedremo qui tra poco eccoci qua ragazzi il cacciatore alla fia della missione e adesso seleziono quella che devo fare io buona buona sera signorita ecco ragazzi devo cacciare un zenox tigeo e un gol magara cortico seguito i cacciatori vediamo un po' se mi danno una mano se mi danno una mano e un po' e un po' che mi saia un o' e un po' 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 forza ragazze su e seguiamo queste due signorine starfox re g2 grazie ragazze forza ragazze su che ammazziamo questi qua bravi ragazzi let's go a noi gorma galacotico e zinog sticeo allora ecco c'è un'altra parza parza guarda che è arrivato bravi ragazzi aiuto grandi ragazzi così si fa super potenza aiuto merda per cui c'è sicuramente che culo bravi bravi poi si si fa giu ammazzate dai forza super potenza che mozzata che mozzata bravi ragazze minchia non 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 così si fa bravi eh 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 va ragazzi niente altrimenti ancora qua spero soffermabili bravi perdono perdono eh eh ah vai super potenza dai dio cane dai la testa di merda super potenza stai già male stai già male eh 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 tanta roba ragazzi e non nevelo non nevelo non nevelo nevelo non veloce e indolore non poterlo andare meglio guarda la fangola questo cazzo che tanto ha rotto molto cazzo perfetto ora tocca a te carogare ancora una gala qui era solo una non è che pareva vero poi mi metto un ucciaggio forse è dell'ottana la magala? non l'ho portato, e vabbè, pazienza e nella sottana, come immaginavo la magra mi conviene a spaccami le palle perchè mi seguo è qua? ah però, dove cazzo sta? non l'ho qua molto strano che non sia quando la magala sono fatti bravi un bel lavoro di qua Cosa cazzo sta? Eccolo, cazzo sotto una casa, nella zona numero 6, ok, arrivo. Te ringrazio, Itto, se hai postato la bomba a gara. Eccolo. 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 Bravissimo. Succa potenza. Eccolo. 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 Che cazzo. aiuto merda porca puttana ho sbagliato a sbagliare ragazzi volevo andare avanti invece senza imbrivo porca troia vengola vengola adesso devo cessare il tutto allora difesa attacco resistenza e anche i vari pezzi bene eccomi qua ragazzi bravissimi 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 abbi porco straordinario mamma galla sono qua andate a calmare dai che stai volendo con la bella fantastico rompi la testa veramente è epico ragazzi in 10 minuti ho fatto tutto sono durante 5 minuti che c'è scopo questa versione è troppo figa sto misto tra un giovane e adulto figata benissimo ragazzi andro la corteccia zinogos tigeo insetto drago zinogos tigeo celverte zinogos tigeo celverte corno diametrico del gormagala scaglia del caos zinogos tigeo crime drago corno duro zinogolo sperona zinogale scaglia del caos corno diametrico trinciatore bonagala alla antinomica frammento bonagala che sta finendo pure e vai dopo il cambiare non la teneremo in poi benone strano però perché questa è una mission avanzata e va l'importante è aver compiuto la missione e vai tanta roba e la missione corrispondono vabbè e ragazzi dopo questo grande successo questo templario c'è su qui e ciao a tutti